Un corpo di polizia fondamentale per l'amministrazione della giustizia che compie 202 anni. La polizia penitenziaria festeggia il suo anniversario in comune a Bari, ribadendo il proprio ruolo come sottolineano i provveditori dell'amministrazione carceraria di Puglia e Basilicata. E' importante celebrare il 202esimo anniversario di questo corpo che ormai è sempre più proiettato all'esterno e fa parte a pieno titolo dei corpi di polizia di questa nazione. Ricordare un lavoro che a volte proprio perché in buona parte si svolge all'interno di quattro mura non viene come sarebbe giusto valorizzato e dunque stare vicino alle istituzioni e che le istituzioni siano vicine alla nostra amministrazione con un legame indistribile con la città di Bari è importantissimo. Il corpo della polizia penitenziaria ha sempre avuto al suo interno una porzione di specialisti dell'ambito minorile, sono persone che fanno dei veri e propri corsi di specializzazione e che insieme agli educatori cercano di dare concreta attuazione a quello che prevede la Costituzione, cioè che la pena debba servire al reinserimento sociale e non possa essere contraria al sentimento di umanità. E quindi sono una componente fondamentale dell'equip di osservazione e trattamento e ci danno una mano a conoscere sempre meglio questi ragazzi e cercare di reinserirli dopo la fase critica della loro adolescenza.